I russi vogliono crescere e cercano in Liguria non solo il turismo, ma migliore qualità della vita e tipicità artigianali. Lo evidenzia il presidente regionale di Confartigianato Giancarlo Grasso, reduce dalla missione in Russia organizzata dalla regione. Grasso ha evidenziato che il tessuto economico russo punta soprattutto al know-how della Liguria, al saper fare dei piccoli imprenditori per stringere nuove collaborazioni commerciali con le aziende della regione e sviluppare quella fetta di economia fatta di micro e piccole imprese. che in Russia non è particolarmente diffusa. Secondo gli ultimi dati Istat e Union Camera elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato, tra il primo semestre 2015 e lo stesso periodo del 2014, l'export verso Russia, Libia, Tunisia e Brasile, i quattro mercati emergenti in maggior crisi, è diminuito del 64%. Si tratta di oltre 105 milioni di euro, il 30,4% riconducibile alla Russia. Quello della Liguria rappresenta uno dei maggiori cali d'Italia a fronte di una decrescita media nazionale del 21,9% su un export complessivo di 6,8 miliardi. Solo Savona ha fatto registrare una crescita con un più 15,5% su un totale di quasi 26,5 milioni di euro di esportazioni, per il 35% destinate proprio alla Russia.